Per me un raviolo se non è con lo zucchero non è raviolo Cioè non sto mangiando il raviolo mio classico è rotondo e con un po' di zucchero Poco, non tanto Nell'impasto della ricotta Prendi un cuscello di ricotta da mezzo chilo, quella grande a seconda con delle palle E l'amalgami Un cucchiaio, due cucchiai, assaggi, ti rendi conto il sapore Il dosaggio lo fai tu Con il tuo gusto Ah questa macchina Andiamo 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 Devi guardare via Andiamo 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 Andiamo